E adesso parliamo di fumetti, letture da bambini, si sarebbe detto qualche tempo fa, ma oramai negli anni gli appassionati di graphic novel sono cambiati, tanto che si parla di questo genere come la non-arte. Allora, ne parliamo con un ospite in studio, Fabiana Fiengo, fumettista, autrice tra l'altro delle tavole dei Bastardi di Pizzo Falcone. Che sono la trasposizione a fumetti di uno dei romanzi di Maurizio De Giovanni, poi diventata anche una fiction rai di successo. Fiengo, allora, buongiorno, ben arrivata, la vedo bella sorridente. Allora, il fumetto è stato sdoganato, non è solo più una passione per bambini e ragazzi, come diceva prima nell'introduzione Valentina? Ha ragione Valentina? Sì, assolutamente. Valentina ha sempre ragione Fiengo. Ecco, diciamolo. Il graphic novel diciamo che ormai ha assunto una sua dignità letteraria alla pari dei romanzi, semplicemente che ha un codice linguistico in più, quello oltre quello della scrittura anche quello dell'immagine, che non significa svelire la dignità dell'opera ma anzi offrire è una chiave di lettura diversa e innovativa, insomma, e anzi permette a tanti autori importanti anche di divertirsi con la propria arte, sia narrativa che stilistica, perché il graphic novel non ha limiti da questo punto di vista. è una possibilità per tanti artisti anche di sperimentare e creare nuove forme narrative, sia attraverso la scrittura che attraverso ovviamente l'immagine. Che brava, che brava. E lei questa che fa tutti questi disegni? Sì, sì, ho realizzato i disegni per questo graphic novel. Adesso poi ci torniamo. Lei conosce Vittorio Giardino, ovviamente? Eh, no. Come, Vittorio Giardino è uno dei maestri del fumetto italiano. Allora, prima Roberto le chiedeva se i fumetti sono solo per bambini, ma sono invece stati sdoganati, no? L'abbiamo detto, come lettura per adulti. Allora noi ascoltiamo proprio cosa ha detto Vittorio Giardino in questa intervista con Bruno Luverà. Direi proprio di sì, anche troppo, anche troppo. Cioè, forse era meglio, per molti versi, quando a scuola le maestre ti sgridavano, ti sbeccavano con un giornalino a fumetto, ti dicevano, ah, cosa stai facendo? E magari ti cacciavano fuori dalla classe. Questo senso del proibito, in sostanza, non ha fatto male al fumetto, secondo me. Non è vero affatto che abbia fatto male, tanto è vero che sono stati prodotti dei grandi capolavori. in epoca in cui il fumetto era tipicamente o per bambini oppure per adulti, come dire, semi-analfabeti. Quindi ci sono stati in passato, anche in Italia, grandissimi che sono sempre stati considerati appunto letteratura per bambini. nomi potrei farti né tanti, ma uno tanto per dire perché ci ho passato la mia infanzia, era Iacovitti, grande genio del fumetto, e io aspettavo con ansia di cominciare l'anno scolastico per comprare il diario Witt. e appena comprato il diario Witt lo sfogliavo fino all'ultima pagina per vedere tutte le vignette di Iacovitti. Nella sua vita Iacovitti non è mai stato considerato granché. Allora, in questo suo libro i bastardi di Pizzo Falcone sono stati rappresentati come degli animali. Poi, per chi ha letto i romanzi di De Giovanni, ognuno ha un carattere proprio ben definito e quindi credo che lei abbia associato, no? Sì, chiaramente la scelta dei bastardi, che è un termine antifrastico perché loro sono poi cani di razza, è chiaramente inerente ai propri caratteri e alle idole, anche in maniera abbastanza semplicistica. Tipo lo Iacono? Lo Iacono è un Doberman, per un taglio degli occhi un po' orientale, lui è soprannominato il cinese, il più aggressivo della comitiva, diciamo, è un pitbull, quindi usando anche un po' che... Mi scusi, Fiengo, ma a me hanno detto che anche io e Valentina siamo diventati un cane e un gatto, bisogna vedere chi è il cane e chi è il gatto. Uh, che meraviglia, ma questo l'ha fatto lei? Sì, sì. Ma grazie, piccolo manzo. Quindi vuol dire che io sono un cane? Cioè, no, nel senso buono del termine, sono un cane. Ma questo è un regalo meraviglioso, grazie. È bellissimo. Ma che cane è lui? Quindi? Eh, no, sono andata un po', diciamo, quasi un labrador, diciamo. Quasi un labrador, neanche tutto labrador. E invece... Perché è un po' più umanizzato, diciamo. Umanizzato, più umanizzato. Colleziono complimenti. Tu sei una gattina sexy, guarda lì che roba. Una gattina, diciamo. No, sexy, guarda. No, gattina, diciamo gattina. Allora... Perché non si può dire storia? Beh, vabbè, dai. Allora, poi dopo mi divento rossa. Allora, Fabiana, ritornando ai bastanti... Guardi di Pizzo Falcone. Insomma, è stata una scelta premiata? Eh, assolutamente. È piaciuta, cioè, è nata così per gioco. Non era semplicemente... Era un mio divertimento, perché ero grande fan sia della serie che dei romanzi. E invece poi è stato un successo enorme approdato in Bonelli e la Bonelli, grazie anche a Maurizio De Giovanni, che era rimasto entusiasta dell'idea, hanno deciso, insomma, di trasferirlo così, insomma, il commissariato di Pizzo Falcone in versione, appunto, canina. Canina. Bene, ma abbiamo tutto un episodio e c'è solo quella cosa. Eh, dobbiamo chiederlo a Fabiana. Adesso che ci conosce meglio, sicuramente avrà molte idee. Bene, grazie. Ha capito che sono un cane davvero. Da tenere al guinzaglio, direi. Allora, Fabiana Fiengo, fumettista, grazie.